Tragedia al rally di La Corugna, nel nord-ovest della Spagna. Un'auto ha perso il controllo in una curva ed è rimbalzata più volte investendo gli spettatori. Almeno sei morti, due uomini e quattro donne, una delle quali al nono mese di gravidanza. Una decina i feriti, tra cui quattro bambini. L'incidente è avvenuto verso le 20 di sabato, mentre era in corso la terza tappa. La competizione è stata subito sospesa.